Un saluto da Giacco Anora a tutti gli amici di iPad Social. Fa un certo effetto la tifoso del Bologna vedere che tutta Italia è pronta a seguire domenica sera che cosa farà la squadra rosso-blu. Non che interessino tanto le sorti del mio amato Bologna, ma giocherà contro la Juventus e se riuscisse a fermarla potrebbe impedirne l'accesso alla Champions League. È una sfida appassionante, quella legata alla finale di stagione e il Bologna diventa in qualche modo arbitro. A proposito di arbitri, dirigere la partita Valeri e Mijajluvic ha anche indovinato la designazione. I tifosi del Bologna stanno facendo di tutto per spingere i giocatori che appaiono ormai demotivati a dare il massimo contro la Juve e anche quelli del Milan hanno detto che se il Bologna fermerà la Juve compreranno al merchandising rosso-blu un gadget della formazione felsinia. Insomma, vediamo cosa succederà. Di sicuro tutti ci guarderanno.